Eccolo lì che arriva, guardalo lì, il cappellino ha? Eh sì è. Passano gli anni eh Pedro? Passano gli anni però il Pedro è ancora in forno. Eh sì si vede dai. Allora Pedro, io l'ho visto eh, eh caro, a piano eh, vai piano, fermati, fermati, fermati lì, fermati lì, gufo, come lo prendo? Ma che cavolo di discorso è lo prendo? Lo prendo? Questo qui è un edulis, è di quelli gnocchi eh, guarda qua, guarda che gnocco, bello, questo non è un dordellino, è un dordellone. E' proprio un colore spettacolare, guarda Franco, guarda, guarda, guarda che colore che ha, in mezzo al muschio, è un dordellino anche questo, piccolino ma sanissimo. Ma che roba? Guarda, ma che colore che ha? Nero. Eh non è un nero. Eh, Pedro? Eh in mezzo a quei due faggi qui, tu hai visto qualcosa ma io non so come hai fatto a vederlo Franco. Guarda un po' cos'è? Ma c'hai gli occhi a binocolo tu. No ma guarda un po'. Eh è un porcinetto ma guarda dov'è lì, tiro su eh, guarda. E' bello ma in mezzo ai faggi. Piccolino, piccolino, è la faggia, guarda, piccolo, piccolo, bello sano, appena uscito, certo che lì in mezzo alle foglie. Bello, 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 bello. E' un buon segno questo qui eh. Un buon segno? Questo è un buon segno perché guarda dov'era e il nono, il nono Franco l'ha visto lo stesso. Ma che bello questo. Ma qui hai visto, stanno puntando sotto le foglie completamente eh, quindi vederlo, ci vuole l'occhio esperto, guarda qua. Ah, è proprio un dordellino questo qui. Bello, no? Ma che bello, si. Questo c'è ma è difficile vederli no? Sono... Dove? Piccolino anche. Vedi? Ma è un badius o è un porcino? Ma no, è un porcino, vedo il gambo bianco eh. Sì, sì, è un porcino. Beh, questo qui sta uscendo adesso, vedi? Eh, vedi. Tranquo, sono qui in un punto umido, va come sotto. Ma come sotto? Oh, che roba. Senti, senti. È in mezzo alle radici della pianta, qui dovrò tagliarle, è tutto intrecciato in mezzo alle radici. Ah sì, bello dai. Qui c'è le radici, guarda. Oh, ma che gambo. Guarda che gambo. Lungo, vedi com'era dentro radicato. Bello, 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 bello. Ecco, allora, tiriamo su questo qui che l'ho visto io eh. Eh, l'hai visto te, ho capito che l'hai visto te. Guarda, è come sotto, sempre la stessa qualità. Guarda come è incavato, guarda come è incavato. Sotto, ma guarda che, sotto, sotto il capello. Sì, guarda, bianco, 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 questo qui è ancora fresco, fresco. Che bello, più piano. È un edulis, è un edulis bellissimo. Che bello. Pedro, questo è un gnocchetto. Sì, è un gnocchettino. Pronto a vedere come si mette lì la situazione? È come lo chiami tu, è un porcino edulis questo qui. È un bel edulis. Allora, scaviamolo bene perché qui siamo sotto a vite, eh. Guarda, che buco. Ma che buco. Ma che gnocchetto, è piccolino, ma è bello rotondotto questo qui. Ma va che buco che c'è sotto, dì. È rotondotto, guarda che bellino. Buo, bravo. Bello, bello questo qui. Allora, questo qui l'hai visto tu, però dietro l'indicazione. Sì, sempre dietro l'indicazione. Adesso andiamo a prendere l'altro che ho visto io. Va sotto, va sotto, va sotto che bello che è. Sotto, diamo una pulitina e poi lo teniamo per la mostra di gavirati questo, eh. Va bene? Sì, sì, va bene. Pedro, lì c'è il dordellino, eh. È proprio il tuo momento, Franco, eh. È il momento dei dordellini, li stai vedendo tutti tu, questi qui. Tu col telo magico. Sono piccoli, ardalò lì. Ma poi vedi i dordellini, questi, guarda. Questi qui, questi qui, vedi, stanno uscendo. Questi qui si teneva tra 3 o 4 giorni, era un bel porcino. E così invece, vabbè. Intanto abbiamo dato il titolo del firmato. No, va bene, va bene. Il dordellino. Guarda che bello, la mangiaccuro questo qui. Ma che tappeto che c'è, Pedro. Sì, ma vai a vedere lì, questo qui devo mettere giù, lì, giù, lì, vai giù, vai giù, vai giù, piano piano. Devo mettere che l'abbiamo visto insieme contemporaneamente. Ma dove? Anche se il posto te l'ho indicato io. Vai giù lì, guarda lì. Oh, che cannella. Guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, madonna, com'è duro questo qui. Ma che cannella. Sai che sembra un pezzo di granito? Va a vedere, va a vedere, tira su bene. Tira su bene, eh. Guarda lì, guarda lì. Guarda lì, guarda lì. Questo qua è il maestro dei porcini. Guarda lì che roba. Che bello che è. Che scuro, che scuro. Sembrerebbe perfino un pinopilos, ma non è un pinopilos. Perché è pino, eh. Sì, ma il gambo infatti è scurino, ma il cappello non ha tonalità violetta così. Comunque assomiglia molto a un pinopilos, va che scuro che è. Che sano che è. Guarda che roba, sanissimo. meno male che siamo venuti subito qui perché se veniamo domattina per esempio questo è resa più avanti insieme l'hanno visto eh? si questo devo ammetterlo che l'abbiamo visto istantaneamente assieme proprio contemporaneamente quindi comincia a migliorare ma cos'è quello? ma non vedi lì mezzo l'erba sembra una russola quella lì eh? tu dici che è una russola? non è un porcino andiamo a vedere andiamo a raccattarlo sotto è bianco sotto non è un porcino e porca c'è attaccato anche il piccolino solo che è venuto su mi spiace mi spiace però un pocino guarda com'è c'è il piccolino attaccato guarda c'è il piccolino lì attaccato e oh franco ma ho poggiato la mano qui ho sentito il gonfietto ma si ma c'è sotto qualcosa ma va ma fa vedere sento gonfio ma vedi che sopra non c'è niente e si ma aspetta fammi andare guarda c'è sotto tutto il muschio ma cosa c'è qua sotto ma cos'è c'è lì sotto ma guardate ma cos'è? ma non lo so se è un porcino andiamo a vedere vedere ma cos'è? ah stavolta ci ha fregato una russola una mustelina è una mustelina è bella eh? guarda e c'ha proprio il cappello come il porcino guarda ti metto vicino stai lì eh? ti metto vicino anche il porcino guarda il colore se non sembra proprio uguale 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 invece guarda questa è una russola era lì sotto e ci ha fregato è andato avanti lui eh Franco hai visto quella bella russola qui? è bella russola cosa ne faccio? vai vicino vai vicino guarda guarda che bella russola la prendo si ma cazzo ma di fianco cos'è che c'è? dove? ma non c'è niente ma quello lì questa qui è una russola sanguinea va che bella si ho capito hai visto? ma guarda lì dove hai tirato sulla russola ecco la roba qui si cos'è ma è una fuffa questa qui si fuffa è una fuffa si tira su vedete la fuffa ah è fuffa quella lì guarda lì ah fuffa guarda guarda che edulis hai fuffa questa ti è piaciuto lo scherzo Franco? bello bello guarda che bella ma che testina eh si eh che gnocchi ragazzi sani sani appena usciti eh belli 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 Pedro qua non mi devi imbrogliare eh? questo l'ho visto io eh che cazzo guarda in mezzo alle frasche ma come che l'hai fatto? che tu di solito non vedi niente guarda che bello guarda lì guarda lì mezzo sasso guarda guarda lo tiro su o lo lascio qua? ma si fuori eccolo allora e si rompe quello è un nocciolino bene fatto si rompe perché eccolo qua è venuto bello guardalo lì guarda lì guarda lì che gambo vedi che un pezzo si è tagliato dentro si 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 era talmente attaccato sotto comunque lo lascio dentro quel pezzo là bello bello c'è uno che è qui bello Pedro no ma questo qui l'ho visto ancora a te ma dai oggi c'ho l'occhio si vabè ma non è giusto però dai non è giusto però tu devi stare indietro quando vieni con me no sto indietro no perché indietro cazzo devi stare indietro così io li vedo prima no no fa vedere guardalo lì guardalo lì qui è attaccato il tronco e qui non so mi sa che si rompe perché non riesco a toglierlo è talmente incastrato non riesco a toglierlo eccolo qua che è venuto guardalo qui guardalo qui sempre sano sano tutti belli vedi che si è rotto qui perché era talmente attaccato tutti belli adesso stai fermo perché il prossimo lo voglio prendere io no ma l'ho già visto qui di dietro no stai capo questo qui l'ho visto il Pedro va ha buttato giù il coltello vicino guardalo lì coltello l'ho segnato l'ho segnato col mio coltello Pedro mi raccomando guardalo lì l'ho segnato col mio coltello perché questo è proprio un bel nocciolotto sono tutti sani sani appena usciti guarda che roba croc croc guarda che bello che spettacolo qui sono tutti i funghi da un etto più o meno questi sono bellissimi sono sani 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 guarda che con Pedro qua non scherzo no 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 guarda qua c'è niente da fare guarda qui guarda che funghi qua qua ti senti male eh oh che vedi bello bello si questo qui però Pedro guarda un po' e questo qui ti ho detto è piccolino io lo lascerei qui guarda di domani a prenderlo ma tu sei fuori però bisogna vedere com'è no no tu prendilo adesso domani guarda che nocciolino che è guarda che nocciolino guarda che bello che è guarda com'è piccolino questo qui stasera me lo magno crudo guarda bene bene ti dico la verità via la cosa bello bello c'è dentro un insetto che non vuole uscire bello oh non vuole venire fuori dai caccialo fuori ecco è uscito bellino ne bello bello dai lo mettiamo come nocciolino questo qui bello questo l'ho visto il Pedro è come gli altri eh tutti io li ho visti eh tutti si è quello che vedo io guarda lì tutti i gnoccolotti eh uno più bello dell'altro tutti i gnoccolotti guarda che roba Franco qui c'è andata bene eh qui c'è andata bene che bel testino devi ascoltare sempre il nonno tu che ti va bene si il nonno si fa vedere ma dai che bel carezzino col toscano ti tira via col toscano perché mi toglie l'odore dai vedo vedo questo vedo questo l'ho visto io eh ed è il primo l'ho visto io questo non fare non fare movimenti strani vai la vedere che bello che è guarda che bel testino eh si la testina è bella vediamo no è ancora sodo eh detto così sembrava molle e lì c'è sodo è sodo è sodo vediamo lo muovo tiro su caspita guardalo lì guardalo lì è bello sano eh bello amico mio è bello sano eh è un bellissimo anche questo ah che capello scuro bello 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 bravo o no no